Un protocollo di intesa unico in Italia a tutela della legalità. È stato sottoscritto oggi a Palazzo Balbi tra la regione del Veneto con il governatore Zai e la guardia di finanza con il comandante regionale, il generale Mainolfi, che ha lo scopo di favorire lo scambio di informazioni in relazione agli interventi finanziati del PNRR. Deve costituire la ripartenza del nostro paese che ci accompagnerà fino al 2026 è uno strumento che serve a far sì che le risorse che saranno versate, gli oltre 20 miliardi che saranno impiegati in questa regione, vengano impiegati proficuamente e costituiscono veramente un investimento perché abbiamo la responsabilità morale di far sì che queste risorse realizzino quello che è l'obiettivo del PNRR, cioè una ripresa e un rilancio della società del futuro. La collaborazione si baserà su un software rodato negli ultimi due anni che anziché ragionare su dati puri lo fa sulle informazioni, utilizzando algoritmi realizzati ad hoc per evitare truffe e sottrazioni di risorse pubbliche che dovrebbero creare lavoro e pil. Si pensi solo che per quanto riguarda il PNRR avremo circa 25 miliardi di risorse che caleranno sul territorio, sarà bene capire che vadano nelle mani giuste e non in quelle sbagliate. Il generale Mainolfi ha presentato una serie di dati che dipingono uno scenario preoccupante. Il settore edile in Veneto conta circa 60 mila soggetti. Nei due anni di lockdown ne sono nati circa 6 mila e morti 5 mila, ma il dato sconcertante è un altro. Nel Veneto abbiamo circa 500 mila imprese, quindi un 10% di turnover in un anno ci sta, e grossomodo questi sono i numeri, semmai il dato sconfortante è che delle 6 mila nate nei due anni di lockdown ce ne sono 5 mila e passa, in cui c'è qualche soggetto che ha qualche conto in sospeso con la giustizia e cosa ancora più grave, c'è qualcuno di questi che ha avuto dei problemi seri con la giustizia del tipo di stampo mafioso, l'Associazione per delinquere di stampo mafioso. Grazie.